Ok, sono pronto Ok Fai a chiudere la porta di chi... No, ti ho fregato Non saprei mai quando farò una intro No Bella ragazzi di chi... Si, si spera Bella ragazzi di chi... Bella ragazzi di chi... Bella ragazzi di chi... Benvenuti a questo nuovo video di Minecraft In compagnia del buon Tereso Rapitrice Ciao di Mark Allora ragazzi, oggi siamo nel domino di youtuber Questa volta però con Teresa stiamo abusando ancora del server del buon Cileno Che ringraziamo Stavo per chiederti Ma Chris sa che io sono qua? Si, si, sa tutto, l'ho avvisato Ah ok Non sa assolutamente niente Comunque Ma come? Ma bovelo Chris Lo sa, lo sa, lo sa Comunque Vi invito a lasciare un bel like Perché vedete che è tutti quanti di portare il buon Teresa Oggi abbiamo un nuovo ospite Decido di lui la sua testolina Io mi giro in F5 Vado a farmi un girettino Intanto tu scegli chi vuoi Così poi posso iniziare a farti le domande Ah vabbè, ma li vedo tutti quanti da qua Qual è il problema di girare? Per chi guardarmi Per fare quello che vuoi Ok, scusa Ho scelto Hai scelto? Va bene, allora Allora, caro buon Teresino La mia prima domanda che potrei farti è Vai Su detta persona che lei ha scelto Ha una serie Minecraft Da più di 50 episodi Che siamo dato meno? Sì Ok, allora Io eliminerei quindi Anima Federico Mi sembra giusto No, Federico la Pixelmon conta come serie Minecraft Federico rimane La sua prima Pixelmon ne va ben più di 50 Ok, allora c'è ragione, è vero Allora Te ce l'hai avuta Kenny No, Kenny però ha The Sims che non è Minecraft Quindi Kenny va tolta Poi 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 Dillards Che la sua Pixelmon Vecchia sarà dopo tipo 4 episodi Vegas va tolto Kendall va tolto Pietro Pietro che doveva da tolto Cile? No, aveva la Tabicraft Quindi possiamo Il Cile ce li ha superati Sì, sì, sì Allora La mia seconda domanda è Ha un accessorio sulla sua testa Che sia un cappello O degli occhiali Sì Ok, quindi tolgo solamente te Bonzime Questa domanda qui non mi ha tolto nessuno Scusami un attimo Vai Marmi c'ha qualcosa in testa Te lo dico subito No, steppi negli occhiali Ma non è in testa No, io intendevo qualunque accessorio Che sia il cappello Ah, ma che cazzo Allora sì, lascialo Allora lascialo Ok, ok, ok Ho l'ultima domanda io Tecnente Poi devo provare a zeccarla Ok È difficile ma potrei toglierne tanti Fa parte della nostra Pixelmon Sì Perché qua ne tolgo 3 No, 4 ne tolgo Dai, almeno 4 ne tolgo Quindi Dai Aspetta, ci sei te ancora? No, non ci sei No Beh, ne hai tolto in metà alla fine Sì, ne hai tolto in metà alla fine E tagliavo la testa Almeno quello Perché se non so più cosa chiederti A sto punto Conoscendoti Secondo me Hai scelto il buon tech No Beh Ma lo so Io L'altro giro Ero lì Aspetta, tolto le cuffie Se parli Ero lì per dire Oddio O ha scelto me Sono scemo O ha scelto tech Dove sei finito? Sono andato a farmi un giro Ti vedo Ti vedo lì fermo Si vede il nome Allora Vediamo chi posso scegliere Scelto Scelto Hai scelto, di già? L'ho già scelto Bomber Poi Puoi andare Vediamo La persona in questione Ha gli occhi blu? Ha gli occhi blu intendi nella skin? Nella skin, sì No Quindi togliere tutti quanti quelli Con blu intendi anche l'azzurro O soltanto il blu? No, no Blu e azzurro ti dico Ok, va bene Ti aiuterai in questo modo Allora stiamo anche fede Togliamo surri E togliamo anche Kendall ce li ha blu o grigi? Vediamo dov'è Qua No, sono grigetti Quindi potrei lasciarci Allora glieli lascio A posto Ho tolto tutto quanto Sì Non ne hai tolti tanti È quattro Mi sembra che tu ne abbia tolti Tre o quattro No, infatti Il canale della persona in questione Ok Ha più di un milione di iscritti? No Eh Perché qua ne taglievi tantissimi Eh sì, ci ho provato Se funziona, funziona Peccato che io ne vado a togliere Tipo tre Per tutto adesso E mi rimane una sola domanda Urca Ah aspetta Ho dimenticato Stepney Ok vai Opsone Mi ha un po' più di un milione Ops È quello con più iscritti Vediamo Ti vedo in ansia Teresa Ti sento in ansia Mi sto pensando La skin No Tec era l'altro Ero indeciso tra Tec e dealer Sai che ci ha pensato Prima mi hai chiesto Tec Quindi adesso magari mi vuoi trollare Dicendo di nuovo Tec Oddio E io dopo E io dopo avrò paura Che tu sceglierei Tec Quindi era Tec No aspetta Hai messo la testa di tira Allora Devi scegliere te Dai io mi giro Già scelto Hai già scelto? L'avevo già scelto prima Le mie tre teste Che bestia Allora Suddetta persona Fa parte di un gruppo affermato? No Ok Quindi eliminiamo i mates E togli anche la The Raptor Anche la The Raptor ovviamente No La The Raptor la lasciamo per ora Prima che Cosa vuol dire? Non mi ami più? Ok dai Allora togliamo la The Raptor Va bene raga Voi non lo sapete Ma in realtà io e Tear Siamo un gruppo ufficiale Vero Allora Via Abbiamo già messo sotto copyright Tutto quanto Ma non abbiamo ancora fatto nulla C'è Sasha E Vegas Devo togliere anche Gli starter? Sì Cioè puoi Però non farlo Oddio Non farlo Perché non sono Sono affermato come gruppo Ma è vero Non sono Cioè è un gruppo Ma non ufficiale Nettiamo una cosa Esatto Allora Li lascio Non ti faccio il solito domande Che ti ho già fatto Però suddetta persona Ha meno di 300.000 iscritti? No Ok Quindi qua ne togliamo Realmente pochi Chris No in realtà No ne togliamo un tot Tec Oddio ho tolto un pezzo di quarto Fermi Kendall Tec Pietro Marci Tutti Li tocca praticamente Anche Dani Ne rimangono quattro alla fine No tre ne rimangono Ah no Anche Eren Però ho l'ultima domanda io Ma è l'ultima domanda Sì Ho l'ultima domanda Ha un cappello Ha un cappello No Ok quindi qua rimangono solo Lion e Simo Qua si va di psicologia Raga Adesso ho l'episodio psicologico Perché qua Vai Allora Secondo me Ehm Ehm No era Lion Ho mai collaborato con questa persona Sì Vabbè vado già a togliermene abbastanza Sì bene togli un po' Ne togli Non è così malaccio alla fin fine Toglio mates Lion e Kendall E anche Pietro Io con Pietro non ci ho mai fatto video Uno Due E beh Tecnicamente dovrei togliere anche me Perché io non ci collaboro con me Sono io Boh come vuoi E' vero C'hai ragione Ottimo 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 Quindi sì essenzialmente Rimangono tutte quante le persone che conosciamo Bene Esatto La persona indossa un copricapo Sì Togliere il buon Dani Copricapo quello di Marci No Ma quello di Marci non è un copricapo Quindi poi devi lasciarlo È l'ultima raga Ho una domanda La persona in questione È È bella È molto bella Perché stai togliendo Stai pensando a te stesso No era Tec Cazzo Stai Perché stai togliendo Stai togliendo Stai togliendo Stai togliendo Stai togliendo Grazie a tutti. 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 Esatto. Ok, uno. È l'ultima. Abbiamo l'ultima, raga. Abbiamo l'ultimissima. Non siamo arrivati fino a questo punto, in questa sfida. Attenzione. L'aria è palpabile. La vanilla di questa persona. Uso la stessa domanda che hai fatto tu prima. Ok. Ha più di 100 episodi? Sì. Quindi o Eren o Tec. Arriviamo sempre a loro due. Arriviamo sempre a loro due. Arriviamo sempre. A Tec o a Eren. Il bud è questo. Il bud è questo. Io non so se nelle regole si è consentito a provare a scegliere come testa due volte di fila la stessa. Sarebbe da infame... Si può fare tutto quello che si vuole. Sarebbe da infame... Ok, buono sapersi. Quindi sarebbe da infame quando avessi scelto di nuovo Tec. Conoscendoti. Perché stai provando a giocare di nuovo sulla mia psicologia. Ma... Ma... Siccome hai provato a prevedere questa mia previsione... Magari hai detto Eren. Ma siccome hai provato a prevedere anche questa mia previsione... Dico di nuovo Tec. Tec. Dico la psicologia è inutile. Non che la psicologia sia inutile. Ma questo tipo di psicologia è inutile. Ho provato tutti i conti per farti impazzire. Oddio ragazzi. Vito a Teresa. 1-0 così all'ultimo secondo. Oh god ragazzi. Vi lascio davvero un bel like. Un bel commento. Se li volete arrivino ci fatemelo sapere sotto nei commenti. E vi lascio un bel like. Passate a canale. Buon Teresa. Costanza in iscrizione. Da Marche è tutto ragazzi. Bella. Bye bye. Stepney Raptor. In dettaglio.